Il quadro da cui è partito il progetto è il divinto Estense, un divinto che era a Modena ai tempi del Duda Francesco I d'Este e che era considerato di Caravaggio, di Sant'Agostino di Caravaggio. Dal lavoro su questo quadro è nato tutto il progetto, il riconoscimento dell'autografia certa del giovane Andis Bergen e intorno a questo quadro è stato possibile agganciare una lunga serie di altri dipinti che oggi miracolosamente troviamo qui radunati nella prima mostra italiana dedicata al Tocchio.